Prima Angelo del Fango per aiutare Firenze a cancellare i disastri dell'alluvione, poi mecenate per la Syracuse University. È la storia di Daniel Daniello, un ex alunno dell'Università Americana che ha sede in piazza Samonarola, che insieme a sua moglie Gail ha donato 10 milioni di dollari all'istituto dove si è formato 40 anni fa. Fondi che serviranno per rinforzare le strutture e che permetteranno alla Syracuse di fare un salto di qualità. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, grato per queste risorse donate di riflesso anche alla città, si dice pronto a consegnare le chiavi della città allo stesso Daniello. Questa donazione, una generosa donazione, riflette il valore dell'esperienza dello studio abroad che tanti americani, migliaia e migliaia, hanno avuto durante gli anni. È davvero un simbolo, un gesto molto concreto dell'importanza di un'esperienza di studio abroad qui a Firenze.